un ciao a tutti e ben ritrovati oggi ci occupiamo di divisione tra polinomi utilizzando la regola di ruffini iniziamo subito da questo esempio vediamo che il dividendo si trova nella forma diciamo non canonica che vi ricordo essere quella del tipo x meno a a parte la lettera che ovviamente può cambiare può essere x y quello che si vuole qui abbiamo un più allora noi dobbiamo ricordarci che questo y più un mezzo lo possiamo considerare come y meno meno un mezzo perché sarà questo valore che andremo a mettere nella nostra rappresentazione grafica quindi prendiamo i coefficienti di y del dividendo abbiamo y alla terza y alla seconda non c'è 7 quarti è il coefficiente di y e poi mettiamo qui il termine noto 1 qui dobbiamo mettere il valore che abbiamo determinato qui quello che noi abbiamo genericamente chiamato a quindi meno un mezzo e andiamo abbasso l'uno moltiplico 1 per meno un mezzo il risultato lo scrivo alla destra di 1 ma allineato con meno un mezzo quindi meno un mezzo 0 meno un mezzo fa meno un mezzo meno un mezzo per meno un mezzo fa un quarto 7 quarti più un quarto fa 8 quarti che uguale a 2 2 per meno un mezzo fa meno 1 1 meno 1 0 allora già sappiamo che il resto è 0 il quoziente lo andiamo a scrivere in questo modo prendendo questi coefficienti utilizzando la parte letterale che sappiamo deve partire di una unità inferiore rispetto al grado del dividendo che aveva grado 3 questo sarà il coefficiente diciamo del termine di grado 2 y alla seconda meno un mezzo y più 2 questo è un aspetto molto importante ricordarsi quindi che quando abbiamo qui il quoziente questi termini rappresentano i coefficienti della nostra lettera che in questo caso è la y e il primo coefficiente è quello del termine che si ottiene abbassando di un'unità l'esponente del grado del dividendo grado del dividendo è 3 questo è grado 2 consideriamo ora questo caso un po' particolare perché è particolare perché abbiamo visto nella teoria che abbiamo sempre parlato di polinomi divisibili per un divisore fatto appunto come abbiamo detto già in precedenza in questo modo qui però abbiamo x y però osserviamo che x e y qui insi sono insieme hanno sempre lo stesso suo esponente allora possiamo in qualche modo considerare x y come se fosse una lettera unica come se fosse chiamiamola z e allora qui che cosa avremmo avremmo z alla quarta meno 2 z alla terza meno z più 1 diviso z meno 3 siamo nella forma classica della regola di ruffini più usato z ma mi va solo per far vedere sta cosa che non ci crea problemi mettiamo i coefficienti 1 meno 2 0 perché manca il termine alla seconda poi abbiamo meno 1 poi abbiamo 1 e il termine diciamo che compare nel divisore che dobbiamo mettere qui è 3 abbasso l'uno e vado a svolgere i conti 3 meno 2 fa 1 1 per 3 fa 3 0 più 3 fa 3 3 per 3 fa 9 9 meno 1 fa 8 8 per 3 24 e qui abbiamo 25 il resto è 25 e per il quoziente guardo che nel dividendo partivamo con un esponente 4 il quoziente parte con un esponente 3 quindi x y alla terza più x y alla seconda più 3 x y più 8 questo è il quoziente il resto è 25 consideriamo ora il caso in cui nel divisore non abbiamo la classica forma che abbiamo visto x meno a ma abbiamo un certo numero che moltiplica la nostra x allora come posso scrivere questo divisore lo posso scrivere come 3a meno meno 1 così intanto ci ritroviamo questo meno a in questo caso sarà questo termine però dobbiamo ancora occuparci di questo coefficiente che disturba allora è un 3 dividiamo tutto quanto per 3 ottenendo questo tipo di divisione a alla terza perché faccio 3 diviso 3 meno devo ordinarlo quindi meno 2 terzi alla seconda perché con ruffini dobbiamo mettere i termini ordinati per potenza decrescente e allora qui abbiamo a alla terza poi mettiamo a alla seconda poi mettiamo a che quindi diventerà più un terzo a perché stiamo dividendo tutto per 3 meno un terzo questo è il nuovo dividendo e il nuovo divisore sarà a meno meno un terzo siamo partiti da questa scrittura ho diviso per 3 e ottenuto questo allora vado a mettere i coefficienti in ordine per la regola di ruffini 1 meno due terzi un terzo poi ho il termine noto meno un terzo e qui andiamo a mettere il nostro meno un terzo abbasso l'uno 1 per meno un terzo fa meno un terzo lo scrivo qui a fianco sommo in verticale quindi meno due terzi meno un terzo fa meno tre terzi ovvero meno 1 meno 1 per meno un terzo fa più un terzo sommo un terzo più un terzo fa due terzi due terzi per meno un terzo fa meno due noni meno meno due noni meno un terzo vedete che io posso passare da un terzo a una frazione equivalente moltiplicando numeratore denominatore per 3 quindi se moltiplico questo per 3 ottengo meno due noni meno tre noni così ho due frazioni con lo stesso denominatore e faccio la somma algebrica dei numeratori meno due meno tre fa meno 5 noni quindi il risultato qui è meno 5 noni attenzione perché avendo fatto questa divisione questo non è il nostro resto finale sarà quello che possiamo indicare con r primo meno 5 noni il quoziente invece è quello definitivo siamo partiti da a alla terza qui sarà a alla seconda quindi il quoziente è a alla seconda meno a più due terzi e come facciamo a ricavare il resto il resto sarà dato da r primo per il numero per il quale avevo diviso dividendo divisore che era questo 3 allora facendo r primo per 3 ottengo questo prodotto e naturalmente il risultato finale è meno 5 terzi vediamo ancora questo esempio partiamo con l'analizzare il divisore prima cosa da fare sempre qui divido per 5 e divido ovviamente per 5 anche tutto il dividendo ottenendo così x alla sesta meno due quinti x alla quinta meno x alla seconda più 7 quinti x meno due quinti e questo è il dividendo il divisore invece sarà uguale a x meno due quinti a questo punto parto con la regola di ruffini vi faccio notare che qui va scritto due quinti perché qui c'è meno due quinti quindi siamo nella forma classica come deve essere scritto e poi che qui mancano i termini x alla quarta x alla terza perciò ho riempito diciamo questi buchi con degli zeri metto qui l'uno e moltiplico due quinti due quinti meno due quinti zero allora zero per due quinti fa zero zero per due quinti fa zero così via qui otteniamo meno uno meno uno per due quinti fa meno due quinti sette quinti meno due quinti fa cinque quinti che fa uno uno per due quinti fa due quinti e guardate un po due quinti meno due quinti fa zero abbiamo una sequenza di uno e di zeri questo è un termine x alla quinta perché siamo partiti da x alla sesta quindi abbiamo x alla quinta poi questo sarebbe x alla quarta x alla terza x alla seconda questo è x e questo il termine noto e allora il nostro quoziente è questo il resto è zero questo è il nostro sarebbe r primo per ottenere il resto dovrei moltiplicare r primo per 5 che è il numero per il quale ho diviso sia dividendo che divisore ma naturalmente quando qui ottengo 0 come r primo va da sé che anche il resto sarà 0 perché 0 per qualunque numero fa 0 io vi invito a iscrivervi al canale ad attivare le notifiche così saprete quando usciranno i nuovi video con questo termina questo video di esercizi sulla regola di ruffini che spero vi sia stato utile ciao